allora voi qua siete questa sera perché molto probabilmente come condividete l'idea che si la vita è un'esperienza meravigliosa si quindi ha vissuta ok non deve rimanere un'idea o un sogno lontano ritengo che in questo momento in linea generale siamo tutti una condizione di schiavitù finanziaria che deriva da un'ignoranza della della coscienza e quindi questa sera vediamo come fare un primo passo ovvero uscire da questa condizione quindi è un viaggio che va iniziato ok quindi questa sera chiaramente io non sono qui per fare promesse come fanno da altre parti tanto sappiamo che da altre parti lavorano in modo come dire truffaldino ecco ora la libertà è un'idea è una cosa meravigliosa tutti la meritiamo ovviamente però deve essere una conquista dell'individuo ok quindi è una cosa che assolutamente si può raggiungere ottenere però vanno come dire è la tua scelta ecco diciamo così è la tua scelta è legata poi alla creazione della tua realtà punto fine qui noi viviamo in un universo di infinite possibilità assolutamente vero quindi noi abbiamo la capacità di creare il nostro futuro il nostro destino ok quindi questo ovviamente non richiede sicuramente un impegno ok richiede uno sforzo assolutamente richiede sacrifici sì non per per far piacere a qualcuno ma perché è normale quindi se io voglio raggiungere la cima della montagna è ovvio che io oggi scelgo di mettermi in cammino piuttosto che stare seduto sul divano ecco discorso questo poi se ci sono è pieno e pieno di realtà perché ormai purtroppo si sta andando in quella direzione anzi per fortuna direi dove la gente vi dice non state tranquilli vi porto io in cima alla montagna senza fare niente e la gente abbocca e cae e ci cade va bene e quindi io parto dal presupposto che chi è qui questa sera ha già vissuto queste esperienze e quindi ha capito che in realtà nessuno ti regala niente ok allora ci metto in alto la vedete tutti la slide perfetto allora quello di cui parlo stasera non è una cosa nuova è una cosa che io faccio da almeno 15 anni ok quindi quello che vediamo questa sera è una cosa semplicissima allo stesso momento è potentissima ed è esattamente per questo che io sono l'unico a parlarne perché è una cosa che spaventa il sistema chi se ne frega ovviamente non dobbiamo aver paura del sistema che non dobbiamo neanche farci la guerra però sappiate che se noi non agiamo è ovvio che il sistema su di noi vince ok quindi il sistema ci deve schiavizzare perché ci stimola a esercitare il nostro potere che abbiamo quindi come sempre è tutto perfetto noi siamo qui per fare la guerra con nessuno però dobbiamo prendere atto ok che esiste una forza contraria che è fondamentale perché se no noi non potremo mai tirar fuori il nostro potere illimitato ok il potere illimitato è quello legato alla creazione sostanzialmente ovviamente però per creare bisogna avere un certo stato di coscienza e una certa stato vibratorio vibrazionale quindi creare è possibile ma devi saper devi saperlo fare devi essere nelle condizioni di saper creare ecco ora io non parlerò di stelline magiche numeri magici tutte queste robe qua chi vuole giocare con i numeri fare il numerologo va a giocare i numeri vada quel tizio la giocare con i numeri chi vuole andare a pagare mille euro per i corsi motivazionale vada pure a pagare mille euro per i corsi motivazionali tornare a casa il più povero di prima chi vuole giocare col trading online vada a giocare col trading online e poi rimanere più povero di prima chi vuole investire nelle criptovalute vada messina le criptovalute poi viene a piangere sotto casa mia fate tutto quello che volete sappiate che la strada è una è una soltanto scoprire chi siete e basta conoscere voi stessi esattamente come quando nio entra nella stanza dell'oracolo in matrix e l'oracolo gli dice guarda cosa c'è scritto la conosci te stesso ok quindi chi pensa che la tecnologia l'intelligenza artificiale tutte queste minchiate che stanno arrivando ci salveranno buona fortuna credete ancora le favolette di chi vende queste di chi gestisce questa azienda che ovviamente sta spuntando non solo i soldi delle persone ma anche l'anima ok quindi vogliono un futuro di zombie con gli occhialini in faccia a pagare piattaforme per sentirsi grandi fighi che con degli occhialini puoi esplorare l'intero universo sono tutte stronzate dove ci guadagna solamente chi gestisce queste piattaforme a questi siti e l'uomo diventa un rincoglionito l'uomo già rincoglionito li diventa un morto che cammina e questo che vuole quello che vogliamo e questo quello che voi volete io no quindi se vogliamo uscire da questa scusate il termine questa ok dobbiamo esercitare il nostro potere interiore noi abbiamo il potere di creare tutto il paradiso che vogliamo non abbiamo bisogno di tecnologie ok in questo momento noi stiamo usando le tecnologie perché ci servono in questo momento per connetterci va bene così ma vi dico già una cosa è molto probabile che un gruppo di uomini un gruppo di esseri umani quelli più svegli in futuro non useranno neanche più il cellulare non useranno più la tecnologia sappiate che l'uomo si sta dando a schiantare contro la tecnologia la tecnologia diventerà sempre più intelligente e quindi questi robottini molto simpatici con le faccine di gomma simpatiche entreranno nelle case degli esseri umani diranno ciao sono il tuo robot di fiducia e quello te la metterà nel culo anche di notte ok ve lo dico sappiatelo che sarà così e quindi basta che vi guardate qualche film guardatevi terminator guardatevi io robot guardatevi film matrix ecco matrix e direi che secondo me è l'esempio perfetto dove la tecnologia in realtà non serve a una beata minchia ok l'unica cosa che servirà appunto sarà per dire all'essere umano svegliati perché tu hai il potere di creare ricchezza abbondanza pace e amore senza di me ok però purtroppo siamo governati da imbecilli e quindi questi imbecilli sono convinti che la tecnologia salverà l'essere umano no ragazzi non è vero ecco uno dei tanti imbecilli è ilon max ilon maschio per esempio un uomo sannato in realtà è un imbecille un imbecille che si è creato una donna robot lo sapete che ha la fidanzata robot sapete per farvi capire cioè che io dico imbecille non è una mia un mio giudizio è uno che uno degli uomini più ricchi del mondo ha creato la sua fidanzata è un robot cercate fate ricerche su google c'è una foto di un ristorante con un robot a fianco la sua fidanzata è pazzo capite no che siamo in un mondo di pari che siamo governati da pazzi ecco e quindi ci sarà un grande disastro ragazzi scusate sento un casino che sarà la moglie di un maschio questa quindi nei prossimi nei prossimi anni ragazzi ci sarà un disastro esseri umani sempre più zombie esseri umani invece che finalmente si 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 risveglia un po esattamente come il film matrix allora non so se c'è qualcuno che sta disegnando forse è frank e mi è arrivata la notifica non so se sta disegnando vediamo se cambio slide io vedo un disegno nelle slide vedete anche voi il disegno ok come si elimina sta roba no vabbè forse poi dopo si toglie allora quindi prima cosa da fare guadagnare tempo e denaro ok perché quando le persone hanno tempo e denaro sono persone molto più intelligenti ok e al sono persone che hanno anche meno paure ok ma questo è a metà perché se tu guadagni tempo e denaro ma sei un imbecille questo può succedere ovviamente il completamento del risveglio e l'inizio della libertà è guadagnare tempo e denaro facendo che cosa amando se stessi gli altri non ci sono altre chiavi ragazzi ok amando se stessi gli altri vuol dire conoscere se stessi e aiutare gli altri a conoscere loro stessi noi siamo schiavi perché siamo schiavi semplicemente perché non sappiamo chi siamo come società non conosciamo noi stessi ok e quindi siccome non conosciamo noi stessi ci facciamo comandare da quattro imbecilli basta questo è il discorso ok quando l'essere umano scopre se stesso e conosce se stesso diventa il leader e il capo di se stesso e cos'è che vuole fare talmente bella questa scoperta che lo vuole dire a tutti questa è la storia di isaia muna e questa è la dovrebbe essere anche la vostra storia conoscere voi stessi essere così felici di quello che state scoprendo che poi volete dirlo agli altri basta questo vi do una bellissima notizia può generarci un guadagno anche a livello economico così siamo tutti contenti guadagniamo soldi conosciamo noi stessi aiutiamo gli altri a conoscere loro stessi quindi perché vogliamo fare questa cosa per quello che stiamo dicendo per essere liberi non è per fare i fighi ok il discorso non è o che figo c'ho la ferrari c'ho lo yacht ragazzi quella cosa vi va benissimo assolutamente bellissimo ma in prima battuta è per liberarci dalla schiavitù non è un discorso egoico il nostro è un discorso dell'anima l'anima non merita di fare una cosa che non gli piace fare durante la giornata cioè lo schiavo l'anima merita di essere libera e la libertà te la dà sicuramente il fatto che tu durante la giornata non debba andare in un luogo che non ti piace frequentare gente che non ti piace avere un reddito che non ti soddisfa eccetera 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 ok ora il mio come sempre lo dico sempre non vuole essere un giudizio assolutamente no quando Morpheus dice a Neo sei uno schiavo ok lo dice per aiutarlo perché se non glielo dice lui non capisce niente soffre e non sa perché ok quindi il fatto che voi ragazzi siete schiavi non è una colpa vostra è che siete nati in una società così quindi non è colpa vostra ok però una volta che voi lo sapete allora avete in mano la vostra scelta pillola rosso pillola blu che pillola prendo decido di rimanere a fare lo schiavo o voglio uscire dalla schiavitù lì è la vostra responsabilità ovviamente allora per uscire dalla schiavitù ci sono due elementi chiave questi due elementi sono comprovati da me quindi sono cose che funzionano non è una sperimentazione non è neanche una promessa per il futuro è una cosa che esiste da sempre la cosa bellissima delle cose di cui io vi parlerò questa sera è che non sono cose nuove sono cose che esistono solo che io ho avuto il coraggio di assemblarle metterle insieme ma sono cose che sono cose che conosciamo già quindi questa è la prima bellissima notizia è una cosa nuova no 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 sono cose che conosciamo allora qui abbiamo due cose abbiamo una cosa spirituale è una cosa materiale i materialisti quelli che vogliono fare i soldi facciamo i soldi io credo solo in quello che vedo ecco quelli lì hanno un problema non considerano l'aspetto spirituale che è fondamentale questa gente è gente che ruba è gente che manipola è gente che inganna e fa i soldi in questo modo è gente che schiavizza ed è gente che fa i soldi in questo modo perfetto il loro giochino dura fino a un certo punto poi cadono crollano tutti ok poi dall'altra parte invece abbiamo i religiosi abbiamo gli spiritualisti quelli che se gli parli i soldi ti mettono il crocifisso in faccia perché ti sembra che tu sei satana ok sono quelli che ti dicono no 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 i soldi servono solo per la sopravvivenza chiedi chi è ricco è è un bastardo un farabutto gli ricchi sono tutti stronzi eccetera eccetera poi vabbè questo è il religioso più diciamo più intallito però anche chi bazzica nel mondo spiritualità ok ha difficoltà a integrare l'aspetto invece finanziario del denaro ok quindi diciamo che nel nostro mondo c'è molta confusione ok e nessuno in realtà ha trovato veramente la chiave della liberazione e la chiave della felicità sapete qual è la chiave della felicità è unire spirito e materia noi siamo fatti di spirito e siamo fatti di materia punto basta fine stop dov'è la difficoltà ora a livello materiale tutti noi usiamo i soldi quindi dire i soldi fanno schifo io non voglio i soldi sei un coglione sei un ipocrita ok io quando ricevo i commenti tu parli di soldi stai mischiando lo spirito con la materia tu stai servendo satana e sono le stesse persone che si alzano al mattino e vanno a fare gli schiavi per mille euro al mese cazzo tu lavori per satana però ci lavori per satana per i soldi no io invece vi voglio proporre un'altra cosa esattamente il contrario non lavorare più per i soldi non fare in modo che i soldi abbiano potere su di noi sono io che faccio in modo che i soldi vengano da me non sono io che vado a fare i soldi ok bene allora coscienza cristica più network marketing sono due cose che tra di loro sembra che non c'entrano niente ma in realtà si sposano perfettamente da una parte abbiamo uno stato di coscienza di un'anima consapevole e sveglia ok dall'altra abbiamo un'attività commerciale che rispecchia perfettamente i valori di chi è in Cristo cosa vuol dire coscienza cristica essere in Cristo adesso lo vediamo quindi non vi spaventate perché non è non ha nulla a che fare con la religione diciamo che la religione ha fatto una cosa meravigliosa il Vaticano ha preso un concetto giusto che era il messaggio puro di Gesù Cristo che era Gesù Cristo era un uomo illuminato che incarnava la coscienza cristica ok adesso vediamo cosa è la coscienza cristica il Vaticano lo ha fatto diventare un business e ha deviato l'essere umano da un'altra parte e gli ha fatto credere gli ha messo la polverina in faccia è questo devi semplicemente pregare a Gesù che ti salverà un giorno pregalo 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 ok questo è sostanzialmente quello che ha fatto la religione in realtà è l'esatto opposto in realtà tu sei Dio tu sei Cristo tu hai il potere della guarigione hai il potere di essere libero hai il potere della creazione questa è la coscienza cristica allora come funziona la coscienza cristica ci sei tu davanti a te hai tre sfere denaro relazioni e salute adesso io vi dimostro come quasi 60 milioni di italiani sono posseduti dal diavolo cosa vuol dire la parola diavolo colui che divide cominciamo a fare un po' di lezione di etimologia delle parole il diavolo è colui che divide ok cosa vuol dire esempio ho paura di rimanere senza soldi vuol dire che tu sei diviso dal denaro ho paura che quella persona mi lasci ho paura di rimanere solo sei diviso dalle relazioni ho paura ho paura di morire sei diviso dalla vita semplicissimo ragazzi chi non capisce queste cose è un cretino sto parlando in modo chiaro giusto sto usando parole difficili concetti difficili no parole semplici perfetto diversamente quando tu sei connesso hai la consapevolezza di essere ricchezza di essere le relazioni e di essere la vita sei in Cristo difficile come concetto difficile capirlo difficile mamma mia difficoltoso difficilissimo mamma mia ho usato due parole difficilissime difficilissimo quindi cosa vuol dire è uno stato di coscienza interiore quindi quando la prossima volta che vi chiedono ma tu sei ricco o sei poco voi dovete sempre rispondere io sono ricco io sono ricco questa è la coscienza di Cristo io sono tutto l'anticristo cioè il non Cristo è l'esatto contrario io non sono niente cioè io quindi se non sono niente sono povero sono da solo e sono malato e tra poco muoio ok sei separato da queste tre sfere della tua vita quindi non è Cristo che agisce in te è il diavolo Satana l'anticristo che parolone che stai usando ma che cos'è un film horror questa presentazione no no il film horror sono è l'ennesima inculata che vi fanno credere che il diavolo è solamente quello nei film horror così voi siete sani siete a posto siete persone normali che hanno il loro lavoretto da schiavetti che hanno la famigliola che siete vi fate il regale di compleanno vi fate gli auguri a Natale e voi avete la coscienza pulita cos'è il diavolo ah sì l'hai visto l'esorcista che coglione quello là sì sì ma quel film del cazzo sì sì no quelle sono manifestazioni estreme del diavolo ma il diavolo è un'energia è una non coscienza e ne siamo tutti soggetti ok perfetto cosa vogliamo fare essere indiavolati o essere in Cristo vogliamo essere in Cristo perché noi vogliamo iniziare a sentire prima di ottenere vogliamo vedere prima che accada vogliamo credere nell'impossibile vogliamo credere nell'invisibile chi è in Cristo vede prima che le cose accadano perché lui le fa accadere cosa vuol dire che se tu in questo momento hai mille euro in banca su conto corrente tu hai due possibilità o cominciare a dire io sono ricco quindi stai vedendo nell'invisibile e credi nell'impossibile oppure continuare a dire io sono povero siccome tu sei il creatore della tua realtà se tu dici io sono povero in realtà crei la povertà eh ma io ho mille euro in banca eh amore mio ma tu hai mille euro in banca esattamente perché tu hai coltivato questa energia anticristica prova adesso a coltivare l'energia cristica la coscienza cristica eh ma è da pazzi dire io sono ricco quando non sono ricco buongiorno benvenuto nel club dei pazzi eh raga è così eh chi è in Cristo sembra un pazzo perché crede in cose che ancora non ci sono ma chi crea la propria realtà e la manifesta fa esattamente questo crede in quello che ancora non c'è ecco la vera fede la fede non è credo in Dio tu sei credente sì sì io sono credente cioè ieri c'era uno qua io sono credente in che cazzo credi perché appena ti ho detto queste cose sei scappato da casa mia ieri è successo questo è successo questo ieri un uomo è scappato da casa mia appena gli ho detto gli ho spiegato queste cose qua col contributo di Davide Pace qui presente quest'uomo è scappato credente che cazzo credi non credi niente credi nella favoletta io credo in Dio perché è la parola che ti hanno detto perché siamo sempre lì ragazzi perché dire io sono credente fa parte del sistema se tu dici io non sono credente le persone ti guardano male quindi è meglio dire che tu sei credente ok credere vuol dire che io credo in ciò che posso creare non credo che una volta esistito un uomo con la barba che ha camminato sull'acqua che cazzo me ne frega sono contento per lui che non usava la barca che non usava la canona non aveva lo yacht perché lui camminava sull'acqua sono contento per lui che ha risparmiato soldi va benissimo ma la tua vita allora io c'ho ragazzi qua c'ho lo schermo ci sono io a fianco c'ho Veronica che è quella che ride sempre e io quindi la guardo ride ride anche io quindi ragazzi allora facciamo le persone serie facciamo le anime no non c'è no non sto dicendo a te che ridi a me piace mi piacciono le persone che ridono sto dicendo noi facciamo le anime serie facciamo le anime le persone centrate non ci facciamo rincoglionire così dal sistema ragazzi prendiamoci prendiamo in mano il nostro potere perché ci stanno rincoglionendo adesso stanno arrivando sti cazzo di guru spirituali sui social ragazzi ne escono uno al giorno amati amati ama ama amati anima meravigliosa sei grande sei grande anima anima che bello anima ma tu ma tu ma basta ma entriamo nella verità delle cose la vita è semplice dobbiamo riunirci creare perdonarci amare meritare fare qualcosa di concreto insieme così usciamo da Matrix quindi chi è in Cristo ha sviluppato una consapevolezza di essere il tutto di essere ricchezza amore e vita eterna quindi quando vi dicono ma tu muori non muori io sono immortale io creo la mia realtà se io dico spero di arrivare come mia nonna a 90 anni tu crei la realtà che morirai a 90 anni però se tu dici io sono immortale sicuramente stai già sviluppando una nuova coscienza e siccome le tue cellule sono esseri viventi che hanno una coscienza se tu gli dici tu cellula sei immortale la cellula non muore ma se tu gli dici ho paura di morire la cellula fa esegue il tuo comando e io ancora oggi mi devo scontrare con tutti questi scienziati che ci sono su internet perché sono tutti scienziati è normale morire Isaia il corpo muore sono tutti scienziati sono tutti biologi tutti dal primo all'ultimo hanno studiato la biologia col binocolo le cellule come funzioni sono tutti scienziati allora la vita va sperimentata fino a prova contrario Isaia è immortale giusto se io morirò di vecchiaia voi mi dovete venire a prendere nella tomba e mi dovete ammazzare di botte vi do questo permesso allora a questo punto la coscienza cristica si può attivare e sviluppare attivare e sviluppare quanto tempo ci vuole tutta la vita per l'eternità nel senso è un viaggio tanto adesso in questo momento tu sei a zero quindi guarda ti assicuro che già se l'attivi a uno sarai già la persona più felice della terra qua dentro ci sono dei membri di global revolution che hanno già avuto accesso ai nostri servizi e che stanno già iniziando ad attivare e sviluppare la coscienza cristica chiedeteli come stanno e se sono felici non hanno stravolto la loro vita in questo momento a livello materiale ma perché hanno iniziato stanno iniziando dalla coscienza cristica perché è da lì che si parte però sono persone qua che ci sono in sala che non tornerebbero più indietro perché stanno provando su se stessi questo stato di coscienza quindi stanno cambiando i loro pensieri la loro visione sulla vita la loro visione sulle relazioni su ciò che mangiano il loro rapporto col denaro perché le persone hanno un bruttissimo rapporto col denaro perché non hanno un collegamento sano col denaro si parte dall'interno per poi andare all'esterno quindi perché Gesù diceva cercate prima il regno dei cieli e poi il resto vi sarà dato in abbondanza è inutile che andate fuori a cercare di fare i soldi andare a cercare a cercare voglio tornare col mio ex il mio ex deve tornare ma basta il segreto è andare dentro caso strano allora voi dovete sempre vedere una cosa ricordatevi sempre questa ricordatevi sempre questa massima ricordiamoci sempre questa massima tutti io mi ci metto dentro ovviamente se la massa fa qualcosa io dovrei impegnarmi per fare il contrario ok ricordatevi sempre sono teorie sono dei pilastri che se usate i principi che se usati funzionano ora le masse secondo voi usano o non usano il cellulare lo usano bene quindi usare il cellulare in modo massiccio è cosa buona o non è cosa buona diciamo che se vuoi rimanere schiavo va bene cosa buona però ricordatevi che i figli dei ricchi il cellulare glielo fanno usare pochi i figli cosa vuol dire con questo che questo sta facendo una roba abbastanza tremenda cioè non ci permette di andare dentro perché qua vediamo tutto subito in tempo reale ma attenzione però a livello illusorio perché un conto è vedere veramente un paesaggio dal vivo un conto è vederlo qua nel real instagram sono due cose diverse capite figuriamoci adesso ho la minchia del metaverso dove tu non devi assolutamente uscire perché devi avere i soldi uscire di casa incontrarti con la gente ma figurati mettiti degli occhiali paga un abbonamento e sarà in cima al monte Everest Matrix compiuto cos'è Matrix film del 1999 Matrix è una realtà creata al computer per tenerci sotto controllo al fine di creare l'essere umano in questa cioè una batteria punto stop quindi una cosa che noi vogliamo fare come Global Revolution per esempio è tornare alla realtà riunirci in realtà ma come stile di vita però non una volta all'anno cioè una volta alla settimana si viaggia per tutta Italia ci si incontra in tutta Italia nelle varie città si sta bene si mangia insieme ci si diverte ci si abbraccia si condivide si cresce si vive l'esistenza la vita questo è il mio sogno dice Iamunao non tutti rincoglioniti qua sentirci fighi farci selfie guarda basta ragazzi basta ci siamo rotti i coglioni siccome hai preso 50 like di merda allora tu ti senti qualcuno perché ti ha messo 50 like quindi chi sono io ma oggi mi hanno messo 50 like quindi io sono una persona intelligente sono una bella sono una bella persona perché mi hanno messo 50 like ma vaffanculo sei uno sfigato a casa terra sono impazzito io stasera sto dicendo tutto quello allora voi dovete capire che io mi sento spesso in privato con Veronica perché diciamo che io ho sempre bisogno di una persona dove io posso ecco tutte le cose che ho detto in privato a lei questa sera ve le dico anche a voi ecco diciamo così confermi ecco eh mica solo tu devi ricevere queste informazioni mi sembra giusto per carità allora per attivare la coscienza cristica abbiamo tre strumenti che non li potete scegliere ah vabbè io ne scelgo uno no potete fare il bip che volete ci mancherebbe altro ok però consiglio è sono tre cose che sono diverse ma che andrebbero utilizzate tutte perché ognuna lavora in un modo diverso hanno tutte lo stesso scopo ma lavorano in modo diverso quindi la prima cosa abbiamo delle meditazioni in realtà ne abbiamo una in questo momento una meditazione proprio sulla coscienza cristica perché la meditazione guidata perché sono delle frequenze molto potenti che vanno a lavorare subito immediatamente nel tuo inconscio nel tuo subconscio anzi vanno a comunicare con la tua anima come faccio io a comunicare con l'anima di Simone devo usare un canale allora se uso la razionalità ci posso provare ok se uso invece un approccio più emotivo sono molto più sicuro di riuscire a parlare con la sua anima perché l'anima ascolta a livello emotivo non razionale scete la musica è fondamentale per parlare con l'anima è un linguaggio dell'anima la musica quella bella ovviamente ok quindi la meditazione vi aiuta ad attivare la coscienza cristica quindi è una meditazione che io ho creato io prima ho fatto su me stesso e poi l'ho realizzata nel senso che l'ho registrata ok quindi è una musica abbinata alle mie a delle mie affermazioni questa l'avete in video privato e la potete fare dove come e quando volete c'è qualcuno dei membri che vuole testimoniare l'efficacia di questa meditazione ok c'è Ioana forse che sta Ioana posso parlare io sì 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 vai sì io volevo confermare che la la meditazione che ho fatto con te è proprio una una cosa che ti porta proprio in contatto con la tua anima cioè io quando ho fatto la tua di meditazione ho avuto proprio la percezione di essere solo un'anima cioè non ero più nel mio corpo fisico ero soltanto un'anima e quando tu arrivi a percepire questa cosa da lì cambia tutto cioè cambia proprio la percezione di vita perché vedi le cose in modo diverso non sei più attaccato alle cose ma capisci che devi dare più importanza all'anima ancora prima del corpo per me questa cosa è stata fondamentale c'è da brividi comunque ho avuto un'esperienza molto molto bella veramente ti ringrazio bravissima esatto molto bello quello che hai detto grazie e la verità cioè io dico sempre quello che sento sì sì lo so lo so arriva tanto sempre quello che davvero grazie la tua verità arriva sempre e noi vogliamo creare un equilibrio non vogliamo distaccarci dalla vita reale perché vogliamo fare gli angioletti ok no no assolutamente infatti ma per quell'istante no quando tu percepisci che sei sei la tua anima che vuole fare cambiare vita migliorare non nel senso di evoluzione spirituale quando tu capisci quello cambia tutto il percorso della tua vita cioè metti in dubbio tutto quello che hai visuto fino in quel momento capito certo è molto molto bella guarda io la ricomprerei altre cento volte anche se davvero se volete vi faccio un abbonamento al mese eh magari ne fai un'altra di meditazione scusa sì ne ho in mente altre due di fare bello comunque eh questa è quella di base molto potente per la coscienza cristica esatto molto importante vabbè tu hai già detto tutto quindi ti cambia chiaramente la visione perché tu senti non perché ragazzi l'avete letto in un libro o perché ve l'ha detto il formatore di turno che ha copiato da altri formatori che hanno copiato da altri sfessaggi da altri formatori fino ad arrivare a questi americani morti nel 1700 e basta allora bisogna prendere le informazioni da energie viventi cioè colui che ha veramente incarnato quella frequenza ci siete esatto e volevo aggiungere che io vengo da un paio di anni di meditazione guidati insomma ero pratica con con le meditazioni quindi non era la prima volta che faccio la meditazione per quello dico non ho mai sentito questa questa percezione quindi è molto molto potente ora io anche non sono uno che si occupa di meditazioni guidate ok io ne ho fatte tre in vita mia nel senso che le ho fatte io ho due le ho messe su youtube perché penso che ogni tanto sia bello questo tipo di strumento non sono un appassionato però penso che parlare in un certo modo con una certa frequenza di dire certe parole in quel modo possono veramente aiutarti ok a vivere un'esperienza particolare e profonda questo è il risultato questo è quello che conta esatto ma perché è la tua energia che tu la trasmetti in quel momento alla persona che la sta ascoltando è quello che fa tutto il lavoro infatti esatto perché io comunque avendo questa coscienza avendo coltivato questa coscienza per far per trasmettertela giusto che canali usiamo un canale importante è la meditazione guidata perché lì tu senti la mia voce con una certa frequenza con una certa musica e quindi è una trasmissione di energia né più né meno la meditazione è una trasmissione cioè è un dono perché chi è in Cristo dona a chi lo merita ovviamente fa un dono cos'è il dono io ti trasferisco la mia cerco di trasferirti la mia coscienza cioè cerco di duplicarla diciamo così ecco se il terreno da quella parte è fertile si può fare se dalla tua parte c'è un'opposizione invece non si può fare ma va bene non è importante Veronica volevi dire qualcosa no no condivido totalmente con Ioana è proprio il fatto che è un'esperienza e spesso viene fraintesa la meditazione come se fosse un qualcosa per risolvere dei problemi non è così non è l'approccio corretto in realtà la meditazione è un'esperienza dove tu accedi ad una dimensione e sperimenti che tu sei il tutto che tu sei connesso che tu sei questa coscienza ed è sempre bello poterla sperimentare tutte le volte che uno sente di farla perché è sempre un'esperienza nuova quindi io la sto continuando a fare ed è bello perché lavora nella parte invisibile e di conseguenza ci sono i risultati arrivano arrivano perché si lavora molto nel subconscio certo e di conseguenza cambia totalmente anche ovviamente facendo il percorso lo stile di vita cambiano i pensieri cambia proprio l'approccio l'atteggiamento sì perché tutto parte dalla consapevolezza di chi noi siamo esatto è sempre quello discorso quindi perché soffro perché non so chi sono è tutto qua quindi non è che soffro perché per cose misteriose soffro perché non so chi sono cos'è che mi salva non mi salvano delle cose strane particolari sono io che io io sono la salvezza ok per quello che con me voi farete un approccio dove non avrete bisogno di niente questo è il bello non avete bisogno di numeri le tavolette magiche da appendere fuori dalla porta con il sicro sacro spustro tutte ste minchiate qua non avete bisogno voi siete la salvezza ok io noi siamo il gruppo global revolution è il gruppo in italia dell'io sono basta e siamo l'azienda di network basata sull'io sono basta ragazzi io mi chiamo isaiam una o i m in inglese vuol dire io sono cosa volete di più io sono l'incarnazione dell'io sono i m comunque a parte questo è questo che serve l'io sono quindi è solamente accettare ciò che già siamo basta regalare soldi a questi venditori di magie basta fare un percorso con me e comprendere chi sei vivere questa esperienza meravigliosa perché poi comunque la meditazione è un'esperienza bellissima l'accademia è un'esperienza bella il meeting sono tutte esperienze che già quando le vivi sono belle perché se non sono belle che effetto ti possono mai fare le guarigioni amici miei arrivano la guarigione è quando tu ti stai divertendo in quello che fai in quel momento stesso stai guarendo è il piacere che ti fa guarire non è la sofferenza che ti fa guarire anzi quando soffri in realtà sei completamente separato da questa coscienza dimentichi di chi sei allora adesso stiamo entrando un po' nella filosofia comunque io ho questa credenza Dio che penso che sia un essere perfetto molto più intelligente di me è abbia creato le cose belle cosa vuol dire che lui non può farci guarire facendoci soffrire allora Davide se tu vuoi guarire devi camminare a piedi scalzi sopra le pietre per due ore al giorno vedrai che da lì i nervi vedrai che saliranno i tuoi punti energetici eh lo so fa malissimo però vedrai che io ti dico una cosa vuoi guarire passeggia nella natura sotto il sole goditi l'esperienza quella è la guarigione la guarigione è bellezza quando io vedo bellezza sto guarendo la mia mente le persone si ammalano mentalmente perché vedono bruttezza quando io guardo bellezza sto guarendo la mia mente guardare delle una bella casa un bel paesaggio delle belle opere d'arte ascoltare della bella musica il mondo il mondo si sta ammalando perché sta diventando brutto per quello che si sta ammalando il mondo guarisce anche grazie alla bellezza ok va bene chiusa parentesi filosofica allora oltre le meditazioni che non basta abbiamo le accademie cosa sono le accademie sono delle lezioni un po' quello che stiamo facendo questa sera diciamo che la la struttura è formulata in questo modo dove andiamo a vedere delle degli argomenti che sono gli argomenti di base che deve sapere un individuo che vuole conoscere se stesso devi sapere che tutto è uno cos'è l'energia come funziona l'energia attrazione cos'è la gratitudine come si costruisce un sogno che comunicare con amore importante cosa che non dice mai nessuno come avere una migliore salute come creare buone relazioni come avere più tempo e denaro poi vogliamo sapere quanti minchia di pianeti di universo ci sono nell'universo fatevi tutti i cacchi dei corsi che volete ma sappiate che quelle cose comunque la vita non ve la cambiano no no io seguo tutti i video di di Mauro Biglino perché io devo sapere tutto nella Bibbia che cosa c'è scritto che cosa ma che cazzo te ne frega cosa c'è scritto a te interessa sapere come poter migliorare la tua esistenza perché tu sei il creatore della tua realtà sì è bello sapere quante razze extraterrestri ci sono nell'universo sotto terra sopra la terra sì tutto bello ma non sono quelle cose che ti cambiano la vita ok quindi io sono qui perché voglio godermi la vita non voglio farmi le seghe mentali con tutte queste informazioni poi sappiamo oggi ragazzi oggi sappiamo tutto di qualsiasi cosa e facciamo fatica ad arrivare alla fine del mese ma come è possibile oggi sono tutti scienziati perché su internet è pieno di informazioni io conosco gente ragazzi che se tu gli chiedi mi spieghi quali sono le leggi universali che sanno dire quali sono tutte le leggi universali dalla prima all'ultima e fanno fatica a pagare le bollette siamo combinati così tutti filosofi stratti perché siamo in un mondo mentale la mente va riempita più cose so più mi salverò ma che cazzo dici non è più cose sai prima ti salverai e più sei più ti salvi non più sai sai sei e tu cambia tutto sai sei guardate anche questa cosa questa è la mia illuminazione questo altro giorno la parola coscienza è conoscenza conoscenza ha due lettere in più no conoscenza togli il no diventa coscienza devi essere in coscienza non devi avere la conoscenza c'è gente che legge cinquemila libri al giorno e poi c'è sempre la stessa vita perché non hai coscienza quindi bisogna lavorare sulla coscienza non la conoscenza coscienza l'accademia vi aiuta ad avere la conoscenza ma quella proprio basic fondamentale perché bisogna avere un po' di conoscenza un po' devi sapere chi sei ovviamente però comunque è un'esperienza coscienziale giusto cioè chi l'ha fatta si ricorda la vibrazione in cui eravamo esatto sono tutti esperti sono tutti esperti tutti esperti bene allora noi abbiamo due accademie una è la via academy e l'altra è l'accademia sull'amore l'altra è l'accademia sull'amore perché l'amore è secondo me un elemento centrale della nostra rivoluzione della nostra liberazione ok e sapere che amore vuol dire verità e vuol dire libertà è fondamentale perché vi toglie da tutti quei cacchi di sensi di colpa che avete non solo ma vi fa conoscere anche sapere che esiste questa energia capace di fare miracoli io perché faccio il miracolo perché ho l'energia dell'amore perché Gesù faceva miracoli perché aveva studiato le leggi universali no perché lui lo amava il prossimo è per lì che io riesco a compiere il miracolo lo fa chi ama non c'è bisogno di studiare infatti nel film conversazione nel film una settimana da Dio quello con Jim Carrey quando Dio gli dice il vero miracolo intanto gli dice sì il tuo miracolo parliamone ma poi gli dice il vero miracolo è quello di un ragazzo che rifiuta le droghe e va a scuola quindi cosa voleva esempio è la mamma che riesce ad accompagnare la prima scuola a fare due lavori cioè cosa voleva parlare Dio in quel momento dell'amore il vero miracolo è l'amore è l'amore che sa fare il miracolo quindi noi vogliamo lavorare su questa frequenza stasera mi vedete un po' così non sono incazzato io mi sto divertendo sono arrabbiato sto dicendo delle cose come stanno ok poi come terzo servizio che va ad aiutare gli altri due abbiamo semplicemente dei meeting di supporto apriamo le zoom il martedì il giovedì sera hai un argomento che vuoi trattare hai una tua problematica che vuoi trattare apriamo la zoom e ne parliamo questo qua è fondamentale perché le accademie sono alla fine delle lezioni registrate sono quelle e ce l'hai e te le guardi quando vuoi tu la meditazione te la fai quando vuoi tu questo invece è come un sforzo è quel momento in cui noi ci aggreghiamo e anche questo va ad aiutare tanto le anime che giustamente magari solamente con la meditazione o con l'accademia non riescono ad arrivare e quindi c'è bisogno dell'aiuto in quel momento vivo in questo momento mio basta e poi comunque trattiamo tanti argomenti secondo me è un bel modo anche per spaziare a 360 gradi ragazzi basta questo è tutto quello che ci serve per attivare e sviluppare la coscienza cristica non vi serve altro e qua ci siamo questo l'abbiamo fatto perfetto e questa è la nostra parte spirituale adesso vediamo la parte materiale quindi che cos'è il network marketing allora se conoscete il network marketing parlo per gli ospiti toglietevi dalla mente quello che conoscete perché probabilmente non lo conoscete come lo vedo io perché il network è arrivato diciamo in modo potente dall'America gli americani non sono proprio come gli italiani noi come sempre non crediamo in noi stessi quindi vogliamo fare gli americani poi ci sono gli italiani italiani che dicono sei ridicolo giustamente l'italiano quando guarda l'americano dice sei ridicolo quindi l'italiano dovrebbe credere di più in se stesso perché il vero network l'ha creato l'Italia il network marketing è un'energia italiana non è americana però sentite qua l'americano fa network marketing per avere successo ci siete? sapete che l'americano deve conquistare il mondo l'americano deve vincere 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 migliore migliore vincere io sono il migliore io vinco io vinco io vinco io vinco l'italiano invece ha un'altra energia l'italiano ha l'energia del cuore ha l'energia dell'amore l'italiano vuole aiutare il prossimo anche se ci stiamo americanizzando come degli imbecilli ma la natura italica è un'altra è quella dell'aiuto è quella della compassione del perdono del stiamo insieme ti do un piatto caldo ok quindi il network vero si fa con un approccio di aiuto vabbè adesso lo vediamo comunque nell'essenza che cos'è il network marketing a livello commerciale molto semplice guadagna condividendo un prodotto un servizio allora chi di voi qui dentro dice io non voglio fare network marketing non mi fate dire parolacce per favore perché voi fate network marketing da quando siete nati quando arrivate i bambini giocavate al cortiletto al giardinetto con i vostri amichetti avete scoperto il boschetto andate dagli amicetti al degli amichi ragazzi c'è un boschetto là dietro questo è network marketing condivido con gli altri una cosa che mi piace basta minchia ma dici la parola network marketing in italia la gente scappa ah no 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 quelle cose lì ma che cazzo dici mi hai rotti i coglioni tutto il giorno ieri che mi volevi far vendere che mi hai parlato di quello che ti sei comprato su amazon fatti satispey cosa stai dicendo il network lo facciamo tutti dalla mattina alla sera con qualsiasi cosa la domanda che ti devi fare da oggi è voglio guadagnarci da una cosa che già tanto già faccio o voglio far arricchire sempre le solite aziende tanto ieri ti sei comprato allora tutti adesso parlano ecco parliamo adesso di una cosa vabbè tanto magari voglio che non vanno su internet io su internet invece ci vado chat gpt ah che bello chat gpt intelligenza artificiale tutti che mi rompono i coglioni con chat gpt no perfetto ti faccio una domanda ma se tu se io faccio l'abbonamento a chat gcc ok questa azienda ti dà dei soldi perché gli hai fatto pubblicità ti paga io non lo so ragazzi però magari hanno l'affiliate link non lo so ce l'hanno non lo sappiamo ma anche se avessero link di affiliazione vuol dire che ti fanno semplicemente uno sconto all'abbonamento ma non ti pagano poi il fatto che il tuo amico ne parla con un altro quindi come sempre la gente parla fa pubblicità e non si rende conto che stanno arricchendo le aziende tanto le grandi aziende dicono la gente sono degli imbecilli l'apple dice ma tanto il popolo sono degli imbecilli io non ho bisogno di spendere tutti i soldi in pubblicità tanto veronica che è un imbecille si compra l'iphone vede infatti veronica l'iphone non ce l'ha per esempio perché non è un imbecillo invece io ce l'ho c'è un imbecillo perché c'è l'iphone quindi apple dice tanto è veronica un imbecille si compra l'iphone lei sapete cosa fa domani raga guarda che foto guarda che figo bello lo voglio anch'io adesso perfetto uno venduto veronica ha lavorato perché è il termine giusto bisogna dire le cose come stanno ha lavorato gratis per apple poi la sua amica fa la stessa cosa con una sua amica la sua amica fa la stessa cosa con suo cugino con la moglie col fratello veronica grazie a veronica nel dopo due anni sono stati venduti 250 iphone e veronica e di nuovo lì a fare i conti con le bollette mentre il capo di apple grazie veronica che anche stasera mi hai pagato la cena di lusso con le mie fighe qua e noi e noi siamo anche lì a osannarli questi qua ma che geni che sono questi qua sono dei geni della tecnologia questi sono dei grandi mamma mia c'è l'evento di Elon Musk ma rincoglioniti ma svegliatevi siamo noi che sosteniamo sta gente quello è l'uomo più ricco del mondo ma è ovvio compri i suoi servizi che cazzo vuoi non è che quello è ricco perché è capace di fare ricchezza quello è ricco perché tu compri le sue macchine oh raga che genio l'uomo più ricco del mondo Jeff Bezoff è uno degli uomini più ricchi del mondo perché il sottoscritto fa 400 acquisti all'anno su Amazon che genio allora io non sto dicendo che sono dei cretini ragazzi ma occhio occhio a farli diventare delle divinità perché se questi signori hanno i soldi il merito è nostro hanno avuto una bella idea ma siamo noi che gli paghiamo a loro le ville e gli yacht quindi ragazzi dobbiamo capire noi da che parte vogliamo stare se continuare a fare pubblicità senza essere remunerati o fare pubblicità e finalmente essere remunerati in questo modo si comincia a creare una redistribuzione di ricchezza nel mondo siete d'accordo? a questo punto allora i vantaggi del network marketing sono i seguenti stai avviando un'attività imprenditoriale cosa vuol dire che puoi guadagnare tanti soldi ma con un minimo investimento chi è un imprenditore sa che per arrivare a fare anche solo 5 milioni al mese almeno 200 mila euro le devi investire nel network l'investimento è veramente basso guadagni illimitati che è quello che ci serve a noi gestione del tempo che è quello che vogliamo noi sei il leader di te stesso che è quello che vogliamo noi puoi farlo dove vuoi che è quello che vogliamo noi puoi farlo con chi vuoi che è quello che vogliamo noi attività in team sto descrivendo esattamente il lavoro che fa Johanna giusto Johanna? esattamente quello che fai tu uguale preciso proprio è quello attività in team secondo me ragazzi avere un team di supporto io credo che fa sempre tutta la differenza ora come avere successo le cose che adesso vi sto per dire nel mondo del network marketing nessuno l'ha mai dette il perché mister ci vogliono tre cose sono tre ingredienti tre segreti il primo tutte le aziende di network si sa amando il prodotto quindi è ovvio che io non posso proporre qualcosa che io non amo giusto? se io vado a vedere un film al cinema e non mi è piaciuto non vado da mio cugino da mio fratello da mio amico oh vai a vedere un film che è bellissimo non è vero non può succedere no? quindi è ovvio che io se voglio parlare di qualcosa e condividerlo amo quella cosa è ovvio questo però non basta perché la cosa ancora più importante è amando se stessi cosa vuol dire? prodottino magico per la salute questo ti fa bene cacchio che vuoi tu ok benissimo hai in mano un prodotto strafigo facciamo finta che hai in mano un prodotto strafigo facciamo finta se tu hai una bassa vibrazione hai una vibrazione di scarsità e di povertà tu in mano puoi avere un lingotto d'oro non sei credibile perché? perché le persone ancora prima di questo scelgono te sapevate? voi avete due bar sotto casa immaginate tutte e due comodissime sono tutte e due sotto casa uno è un barista simpaticissimo l'altro è un barista antipaticissimo proprio trash da chi andate voi? il caffè costa uguale da chi andate? da quello simpatico oddio da chi andate? da quello simpatico corretto? ok questo è per capire che cosa che è quello che muove il commercio che fa vendere i prodotti non sono i prodotti sono le persone poi c'è prodotto e prodotto dipende cosa ok ma se deve essere qualcosa che va a migliorare la mia vita io devo voglio comprarlo da qualcuno che la sua vita gli è migliorata veramente quindi le persone amano frequentare belle persone è una cosa inconscia che abbiamo perché perché quello che conta è diventare persone felici tutti sanno che la felicità è una condizione interiore quindi io inconsciamente voglio frequentare persone che sono più felici di me perché posso imparare a come essere anch'io felice poi che si tarta di integratore la barretta il ciccino il piccino diventa secondario ma noi vogliamo relazionarci con persone belle di successo questa è un grandissimo è una bellissima esperienza è un grandissimo valore aggiunto alla nostra vita quindi io se voglio condividere un qualcosa è ovvio che per essere credibile devo prima amare me se voglio che qualcuno mi ami ecco devo prima amare me stesso se voglio che qualcuno compri qualcosa da me quindi mi fa arricchire economicamente devo prima io dire io sono ricco devo prima io fare come dire mettermi nella condizione di meritare ma che guardate ragazzi ho sentito un lamento strano devo prima mettermi nella condizione di meritare la ricchezza quindi ragazzi è inutile andare a parlare di prodotti mega galattici e tu sei nel tuo subconscio c'è scritto da quando sei bambino tu sei povero tu sei povero tu sei povero non puoi mai guadagnare soldi in questo modo quindi prima bisogna amare se stessi come con quello che abbiamo detto prima con la coscienza cristica di conseguenza in modo naturale quando ami te stesso ami gli altri a me io ieri ho fatto la presentazione a casa mia con delle persone e mi hanno detto allora negli altri network ti dicono che devi amare il prodotto e amare gli altri ma amare te stesso non te lo dicono e io mi sono chiesto ma scusami ma come fai ad amare gli altri se non ami te stesso e perché sono dei furbacchioni quelli perché per loro amare gli altri sapete cosa vuol dire le ciao come stai tutto bene sei un grande è più un impappocchiamento che amare gli altri io lo vedo più così cioè ecco una cosa che voglio dirvi questa sera secondo voi io vi sto amando o vi sto odiando io vi sto amando perché vi sto sbattendo stai amando ovviamente perché vi sto sbattendo in faccia la verità giusto quindi vi sto amando in questo momento quindi amare gli altri non vuol dire che ti telefono otto volte al giorno perché ti hai preso il prodottino ti è piaciuto come stai ne vuoi un altro vuoi altre due goccette eh amore mi raccomando ecco stasera vai a letto presto eh dai dai che sei una grande dai io preferisco che mi dicano in faccia una verità che io voglio perché voglio sapere una verità piuttosto che mi fai le coccole io non voglio le coccole io ragazzi non voglio le coccole ve lo dico amo le coccole ma se voglio evolvere non è quello che mi serve io voglio sapere la verità dammi strumenti per essere libero a me questo interessa invece le persone un po' sfigatelle io sto con quel team perché mi trattano bene sapete quante volte mi hanno detto io sono andata via da Global Revolution perché non mi considerate come io avrei voluto quindi vado di là che mi trattano con amore e vai vai sappi una cosa che di là ti trattano con amore perché ti vogliono hanno bisogno di te e tu non te ne rendi conto Isaia è antipatico perché Isaia ti mette di fronte alle tue paure per farti crescere ti sbatte in faccia le tue paure ma se tu non affronti le tue paure non cresci ragazzi dalle altre parti vi trattano come come loro sono dei santi perché hanno paura che voi andate via non perché vi vogliono bene chi vi vuole bene secondo me vi deve dire in faccia le cose come stanno quello è il vero amico chiuso discorso filosofo quindi amare gli altri cosa vuol dire che quando io sto bene sono felice la prima cosa che voglio è se io sono felice voglio vedere anche Davide felice perché se ho scoperto la felicità voglio vedere anche l'altro felice giusto? è un discorso basilare questo allora adesso vi faccio vedere in un modo molto semplice come funziona il nostro network non come funziona sì come funziona il nostro network ma voglio farvi vedere come funziona il network marketing perché qua vedrete una magia quello che voi non potrete mai vedere sul vostro posto di lavoro o in altre situazioni lavorative ok ah ragazzi io qua escludo che qua dentro ci siano milionari che hanno aperto un'azienda cioè chi è milionario e può aprire catene di aziende ristoranti fatelo pure per carità di Dio però qua siamo gente persone comuni quindi si parte da un ceto medio qua di ricchi sfondati non c'è nessuno ok ma comunque vi dico una cosa pensate che anche i più ricchi sfondati in fin di morte gli hanno detto ma tu tornassi indietro cosa faresti network marketing perché non è un discorso solo di soldi è un discorso di gratificazione umana io mi sono arricchito perché ho arricchito altra gente è molto diverso dal mi sono arricchito perché ho venduto auto elettriche con tutta la bellezza con tutto il rispetto del mondo ma io preferisco che Davide mi dica Isa sto cambiando la mia coscienza sto cambiando la mia vita preferisco questo piuttosto che Davide mica minchia la tua auto elettrica è troppo figa e la tua elettrica si ti migliora la vita ma non te la cambia quindi io preferisco vincere tutto io voglio vincere tutto voglio vincere l'aspetto economico e l'aspetto della gratificazione umana quindi massimi guadagni e massima gratificazione umana perché voglio farlo perché quello che Dio ha scelto per noi perché Dio per noi vuole il meglio se volete sapere quanto si può guadagnare con il network marketing sappiate che il massimo che è stato visto si va da 500.000 euro ai 2 milioni di euro al mese basta partendo con 1000 euro di investimento facendo felici migliaia di persone avessero dato una notizia al telegiornale diventato milionario con il netto no facciamo aperta allora Isaia sfera viola L2 cosa vuol dire L2 L2 vuol dire che Isaia ha un livello 2 quindi nel network ci sono i vari livelli di carriera si parte da 0 e si arriva al massimo con i meriti ovviamente Isaia guadagna il 20% su ogni vendita che fa in questo caso Isaia vende a Veronica che cosa vende un kit che costa 700 euro cos'è un kit da 700 euro comprende i servizi che abbiamo visto prima quindi Veronica compra la meditazione le accademie eccetera eccetera in questo kit che costa 700 euro sotto vediamo un valore quel valore che vedete 573 sarebbero 700 euro meno il 22% di IVA cosa vuol dire che il valore la percentuale che l'azienda ci paga deve calcolarlo sul prezzo al netto dell'IVA ok quindi l'IVA noi la consideriamo la usiamo solo quando paghiamo e basta quindi se Isaia vende a Veronica che è Veronica a un livello zero ok Isaia vende a Veronica cioè Veronica compra un kit attraverso il link di Isaia Isaia prende 114 euro di provvigione bene torniamo all'esempio del telefono Isaia parla a Veronica dell'iPhone Veronica compra l'iPhone Isaia resta povero a chi vanno i soldi sempre al capo di Apple tutti che deve pagare poi i dipendenti fornitori eccetera eccetera ma anche le aziende di network hanno i dipendenti fornitori qui abbiamo visto quindi la prima differenza tra un'azienda tradizionale e un'azienda di network l'azienda di network condivide parte dei suoi guadagni con i suoi clienti che fanno pubblicità promozione lo ripeto tutti voi state già facendo pubblicità per ogni cosa dovete solo decidere se da oggi volete essere pagati oppure no in questa immagine invece vediamo la vera magia del network cioè come si diventa ricchi come si diventa liberi la rendita finanziaria il sogno di tutti gli italiani il sogno degli italiani non è avere un lavoro e avere una rendita finanziaria siete d'accordo volete un lavoro o la rendita finanziaria la rendita finanziaria quando la rendita finanziaria decido se andare a lavorare o cazzo cioè faccio delle cose che amo no nel senso se ho una rendita finanziaria magari mi scelgo un lavoro part time che mi gratifica l'anima lo faccio con amore wow ma non sono costretto a farlo allora in questo schema vediamo Isaia L4 cioè Isaia è un livello 4 e gli spetterebbe il 25% Veronica è una diretta di Isaia cioè cosa vuol dire che è nella rete di Isaia Veronica è un leader di livello 1 quindi Veronica guadagna l'8% dalle vendite che fa vedete più si sa di livello più la percentuale di guadagno aumenta qua scatta la magia che Veronica vende a Simone un kit da 700 euro valore commissionale 573 bene quindi Simone ha conosciuto Veronica questa storia vera questa storia vera ovviamente Simone ha conosciuto Veronica tra i social network Veronica è veramente una mia diretta Simone compra il kit da 700 euro cosa succede? che Veronica prende l'8% delle 573 cioè 45 euro di provvigione ma siccome Simone è comunque nella rete globale di Isaia anche Isaia ha diritto alla provvigione e qui ragazzi che si diventa ricchi quindi il sistema che cosa fa? dà a Isaia il 25% meno l'8% di Veronica e gli rimane 98 euro questa è la magia del network cioè Isaia si sta facendo una passeggiata nella natura apre il telefono e dice oh sono arrivate 98 euro perché Simone e Veronica hanno fatto una riunione in zoom si sono sentiti Simone ha detto ho visto la vostra presentazione voglio comprare il kit Simone è felice e contento perché sta finalmente acquisendo la coscienza cristica con i nostri servizi Veronica è contenta perché ha aiutato e sta liberando una nuova anima da Matrix ha guadagnato addirittura soldi Isaia ha ricevuto una rendita passiva ragazzi questa è la vera rendita passiva non le promesse del trading del pitching del patching investi mille euro ti diamo il 2% al giorno fisso ma dove è? Isa scusami ma anche in zoom puoi guadagnare anche così perché ho detto questo perché c'è una persona che mi ha appena contattata che per esempio vuole la meditazione e quindi poi un'altra che era interessata anche al pacchetto quindi non è soltanto durante la passeggiata ma è anche adesso per esempio cioè il bello del network dove vuoi quando vuoi quando vuoi quindi noi guadagniamo 24 ore al giorno ragazzi il network ci fa guadagnare 24 ore al giorno 365 giorni all'anno è verità è verità questa ragazzi è una rendita finanziaria ma non creata da una tecnologia perché una ha creato un sistema tecnologico e mi sta promettendo che mi danno ma tu sei un coglione a te ti danno 200% ti danno a te il 2% al giorno a te che sei un coglione senza fare niente ragazzi ma svegliamoci ma svegliamoci la ricchezza è una tua conquista sapete perché Isaia qua sta ricevendo 98 euro perché Isaia ha aiutato se stesso ha aiutato Veronica che a sua volta ha aiutato Simone allora funziona allora sì perché c'è una trasmissione di energia non dovete credere a quelle cazzate metto 1000 euro mi danno il 2% al giorno perché io sono figo sono bello ma dove ma se qualcuno avesse inventato un sistema del genere si terrebbe tutti i soldi per se stesso mi capite i dati se io avessi inventato una macchina che genera il 2% al giorno di guadagni me la tengo per me divento l'uomo più ricco del pianeta e basta fine invece no questi sono tutti i santi ho inventato un modo per guadagnare senza fare niente e lo dico a tutti sono tutti i santi comunque ragazzi non voglio dare a voi dei coglioni perché anche io ci sono cascato sapete quante cazzate prima di fare il network marketing seriamente quante cazzate ho fatto perché non sapevo chi ero perché io e dicevo ma nel mondo sono tutti buoni come me quindi è impossibile che esistano le truffe ragazzi più vado avanti più capisco che satana esiste più mi sveglio e più capisco che il mondo è fatto di gente di merda benvenuto nel mondo Isaia svegliati ragazzi non sono tutti come voi voi siete bellissime persone oneste perché se no non sareste qua questa sera ma non sono tutti così ve lo dico vi do questa notizia bruttissima è pieno di gente di merda se fossero tutte persone illuminate non ci sarebbe bisogno di global revolution network marketing saremo già tutti nel paradiso perché c'è bisogno di global revolution perché c'è bisogno di uscire dalla schiavitù perché ci sono persone di merda che hanno creato la schiavitù a cui ovviamente non faccio la guerra ragazzi e alla persona di merda è un giudizio cioè è una constatazione scusate una persona che guadagna vendendo armi che uccidono i bambini è una bella persona? è una persona di merda è un dato di fatto cioè non è il fatto che il governo italiano con i soldi delle tasse finanzi le bombe le armi e le mitagliatrici è un governo di merda è una constatazione non è complottismo non è una mia idea bisogna prenderne coscienza basta ma sapete cosa dovrebbe farvi capire il fatto che nel mondo ci sono persone di merda? che voi avete un valore meraviglioso a questo servono quelle persone lì per far capire a voi e voi siete un valore importante per questo mondo io ragazzi vi dico vi giuro su questa cosa ve lo giuro sapete perché ho capito che io ho un valore? perché vedo la merda che c'è negli altri perché io mi ritengo una persona normali per me è normale essere una persona normale disciplinata una persona di buon senso per me è normale per me è normale essere così come sono poi quando vedi che invece gli altri fanno le cose oscene ma brutte proprio allora dici ah sto cominciando a capire perché io sono una persona di valore ecco perché io sono il messia non perché io sono chissà qualcosa di straordinario ma perché gli altri non lo sono sapete quella differenza tra il piombo e l'oro? il piombo e l'oro hanno gli stessi identici elementi chimici ma il piombo ha due elementi in più l'oro non è più prezioso del piombo l'oro ha due cose in meno cosa vuol dire che noi riusciamo a comprendere la purezza dell'oro grazie al fatto che esiste il piombo bene a questo punto voi dite vabbè ma con 98 euro non divento ricco certo allora voi non dovete pensare alla vendita delle 98 euro voi dovete pensare che il negozio diventa ricco non perché vende una maglietta da 98 euro ok il negozio diventa ricco perché ne vende 10 al giorno quindi voi dovete già immaginare questo dovete immaginare ovvero io ho aiutato tre o quattro anime tre o quattro persone loro faranno la stessa cosa con altri non sto dicendo che è una cosa matematica ragazzi siamo sempre lì questa cosa la dobbiamo creare noi con la nostra coscienza vi sto parlando del potenziale ora siccome questo che vi sto facendo vedere io l'ho già generato e altri migliaia di networker in Italia nel mondo l'hanno già generato non è una favola è una cosa reale io adesso ho aperto la mia azienda di network marketing quando ero un networker nell'altra azienda ragazzi io vedevo mille euro al giorno entrare nel mio telefonino senza che io facevo nulla vedevo 15 nuove registrazioni al giorno di nuovi clienti al giorno nella mia struttura e io non facevo nulla perché il bello del network è che tu stai creando un impero senza crearlo quello che tu hai fatto è avere grandi sogni avere una bella energia pulita dare focus perché tu devi essere l'esempio del tuo team è ovvio arresto fallo fare all'universo che è molto più bravo e intelligente di te quindi il network è una rispecchia la collaborazione tra l'essere umano e l'universo l'essere umano e Dio io mi impegno ci metto focus lancio la palla vado arresto Dio mi aiuterà a sviluppare la mia rete quindi io ho venduto ho sponsorizzato Davide Davide sponsorizza Valentina che ne so io Valentina domani cosa fa Valentina sponsorizza Simone Simone sponsorizza altre dieci persone e ragazzi io non so cosa può succedere ma sono tutti i soldi che sta incassando l'azienda che va a ripartire secondo il piano marketing tutti quanti noi quindi il network rispecchia il concetto di uno di unità ma con meritocrazia ovviamente quindi quelli che dicono il mondo sarebbe bello senza soldi saremo tutti quanti ricchi e dov'è il merito? io invece credo nel merito è giusto che se Ioana ha la coscienza pulita ha la sua anima pulita ha la coscienza cristica ben sviluppata è giusto che lei possa avere più ricchezze di me è giusto che sia così perché oltretutto lei deve essere un mio esempio quindi io siamo tutti uguali io in questa cretinata non ci credo questa roba comunista non è possibile però nel network quando sento dire ah ma nel network guadagnano solamente i primi infatti se voi leggete tutti i regolamenti di network leggeteli perché in tutti i regolamenti c'è scritto ciao coglione sappi che guadagnano solamente i primi sì sì c'è proprio nel regolamento c'è proprio scritto nel regolamento proprio c'è scritto guadagnano solamente i primi tu non sei tra i primi no tu dovresti guardare allo specchio e dire quanto ci ho creduto quanto mi sono impegnato quanto focus ci ho messo poi invece andavo al bar con gli amici quindi il network è per io iseyamuno sono partito da zero anzi da sotto zero da solo casa mia col computerino tanti anni fa da solo non avevo neanche amici io ho cominciato con i social network ragazzi neanche amici avevo mi sono messo lì da qualche parte ho usato la legge di attrazione dir ti prego mandami due diretti nel mio network ti prego io voglio solo guadagnare con questo network io ho fatto così ragazzi ho fatto così e Dio mi ha ascoltato l'universo ho messo in moto le leggi universali sono arrivati i primi due voi pensate io nella vecchia azienda di network per farvi capire il potenziale io me lo ricordo ancora ero nel mio salotto facevo solo network ero già in affitto quindi pagavo l'affitto mio ho fatto due cose ho detto io voglio solo guadagnare dal network perché è una cosa che amo quindi la scelta e poi ho detto ti prego due diretti due diretti da lì a qualche giorno ho fatto un post su facebook ero un po' incazzato perché io avevo un'azienda e ho detto ma non avete capito un cazzo non avete capito che io con l'azienda non posso fare una minchia perché non ho i soldi secondo voi io lascio un'azienda così? è vero io avevo un'azienda ma siccome non avevo i soldi non potevo fare niente quindi avevo capito l'importanza di avere i soldi e da lì mi contatta una ragazza che mi seguiva già ed entra lei col fidanzato loro due mi hanno generato una rete di duemila persone a Rimini c'è questo per farvi ricapire come funziona il network marketing ragazzi io attratto solo lei me l'accordo ancora si chiamava Nicoletta di Rimini Isa per farvi capire anche come funziona il network Isa ho appena letto il post ho chiamato il mio fidanzato Marco vieni qua leggi cosa ha scritto Isaia perché io ero incazzato in quel giorno lì mi ha contattato e mi ha detto Isaia noi vogliamo entrare io sono andato a Rimini ok e all'epoca si entrava con 450 euro era un altro business e questi erano una coppia si sono messi gli a Rimini e mi hanno generato una rete di duemila persone capite come funziona il network funziona così il network ragazzi è come se voi siete all'interno della Apple che vende telefonini uguale identico cioè io io lo vendo a Veronica ma non so Veronica da qui in avanti quanti me ne vende è quello a chi l'altro poi ne vende ma nel giro di cinque anni se voi fate il passaparola sono centinaia di sono tantissime persone le grandi aziende sanno bene che il passaparola vende per quello e sanno che noi siamo dei rincoglioniti quindi perché devono darci a noi le provvigioni tanto noi siamo contenti così a fare gli schiavetti no Isaia no non è contento così quindi ragazzi io non ce l'ho né con la Apple né con con nessuno io sono grato a tutto quello che esiste nel mondo io sapete con chi ce l'ho con noi io ce l'ho con noi perché noi siamo dei rincoglioniti perché non ci stiamo svegliando eventualmente io ce l'ho con noi con noi che ci guardiamo allo specchio e non ce l'ho neanche con voi eventualmente ce l'ho con me stesso e basta sappiate che alla fine della fiera io ce l'ho sempre con me stesso ma non ce l'ho poi neanche con me stesso perché capisco che sono in viaggio quindi mi perdono però so che sono io che è la mia realtà capite? il problema qual è? è che è un mondo disequilibrato io non posso pretendere perché le persone sono purtroppo non posso pretendere che domani il governo faccia una legge e i ricchi sono un po' più poveri e i poveri sono un po' più ricchi basta non accadrà mai quelli sono talmente ignoranti e loro vanno avanti a impoverire sempre di più la gente e io sono contento perché siamo noi che dobbiamo svegliarci allora come iniziare per prima cosa sarebbe opportuno avere che tra di noi tra me e te ci sia un accordo etico cosa vuol dire? che sposiamo dei valori universali cioè non è che tu stai entrando solo perché vuoi fare i soldi e poi mi rompi le palle se le cose ti vanno male perché non è capito niente quindi chi entra in global revolution entra come essere responsabile della sua esistenza non è colpa di Isaia non è colpa di global revolution non è colpa di Gesù Cristo tu crei la tua realtà sei d'accordo con questo? Saremo amici per l'eternità quindi numero uno accetto e sono consapevole di essere responsabile al cento per cento perché ogni cosa che mi accade sono io da averla determinata punto numero due accetto sono consapevole che sono i miei pensieri e le mie emozioni creano la mia realtà ancora prima delle mie azioni punto numero tre accetto sono consapevole di essere qui per evolvere e chiamare a me stesso il prossimo il mio proposito più importante punto numero quattro accetto sono consapevole del fatto che l'unico modo per migliorare il mondo è migliorando se stessi punto numero cinque accetto sono consapevole che posso utilizzare leggi universali in modo cosciente per il mio benessere e con gli altri punto numero sei accetto sono consapevole di poter dare valore al prossimo ispirandolo col mio esempio punto numero sette accetto sono consapevole che sto migliorando la vita degli altri individui che possono realmente arricchirmi punto numero otto accetto sono consapevole di impegnarmi per creare solo buone relazioni con me stesso e gli altri punto numero nove accetto sono consapevole che la ricchezza può fluire nella mia vita in modo illimitato punto numero dieci accetto sono consapevole di essere fare ottenere tutto ciò che desidera la mia anima nel qui e ora quindi questo è solamente come dire siamo d'accordo sulla nostra filosofia di vita cioè non che poi ti lamenti ok invece per quanto riguarda l'aspetto economico allora ci sono diverse possibilità principalmente tre la prima è acquistare un kit kit oro il kit oro comprende la meditazione la via academy che è l'accademia più completa che abbiamo l'accademia sull'amore dieci meeting dieci meeting di supporto e la quota adesione da 39 euro il tot in tutto per 700 euro sappiate una cosa e questo vale fino al 20 ottobre dopo il 20 ottobre che la via academy tornerà a 498 euro anziché avere nel kit 10 GRH10 ci sarà GRH1 con questo kit partite già dal primo livello e guadagnate da subito l'8% kit oro 100 vale costa 2000 euro è identico all'altro kit con la differenza che all'interno avete 100 meeting di supporto parliamo di 2 o 300 ore di zoom con me e con il gruppo siete veramente a posto almeno per un anno partite dal secondo livello 2500 punti e avete subito il 20% di guadagno ovviamente se comprate i servizi non nel kit li pagate di più il kit serve a cosa a farvi risparmiare soldi e farvi partire in quarta ma 2000 euro mamma mia sono tanti soldi ragioniamo un attimo allora con 2000 euro tu hai una meditazione quanto vale la meditazione in soldi ma si può quantificare chi lo sa ognuno secondo me può dire la sua cifra no 100 euro 200 euro 300 ognuno poi dà il valore che è in base a come vive via academy 25 ore di lezione di esperienza che valore ha ma è inquantificabile l'accademia sull'amore che valore ha inquantificabile 100 meeting di supporto incoscienza cristica non state andando dallo psicologo tutto questo in tutto questo c'è la quota da 39 euro che vi permette di guadagnare in modo illimitato per tutta la vita cosa vuol dire amici miei che con 2000 euro state avviando un'attività imprenditoriale ma non sono 2000 euro che date al notaio per mettere due firme come ho fatto io per aprire l'azienda vai lì due firme 1900 euro sporca troia ragazzi io per aprire la global revolution srl il primo giorno che sono andato lì l'anticipo l'anticipo per le firme le carte l'anticipo 8000 euro per le firme perché l'azienda deve essere registrata alla camera di commercio 8000 euro gli ho dovuto dare in totale me l'hanno chieste 22.000 in totale solo per aprire l'azienda poi il sottoscritto ha pagato decine di migliaia di euro per dare a voi la piattaforma di network che voi avete gratis e io ho pagato senza avere i servizi ragazzi io ho pagato per aprire la società ce la so se capite ho pagato per aprire certo è ovvio che io prendo più guadagni di voi è ovvio questo però cavolo avete due possibilità o aprivi e aprite un'azienda auguri e buona fortuna oppure avviate un'attività imprenditoriale come se fosse un'azienda con solamente o 700 euro o 2000 euro questo è un altro bellissimo vantaggio del network marketing raga niente c'è un cazzo da fare cioè dove tutti i giri ti giri se tu vedi il network marketing dici ma il network marketing è una genialata è vero infatti si chiama network marketing non si chiama libero professionista voi non siete agenti di commercio siete incaricati non avete con noi contratti di lavoro quindi con 2000 avete accesso a servizi attenzione quello che vuol dire vuol dire anche un'altra cosa tutti i guru forma guru che ci sono in giro che vi vendono formazioni eventi eccetera che vi fanno pagare io ragazzi vi giuro lo giuro su dio un ragazzo un ragazzo un ragazzo mi ha detto isaia io ho pagato 4000 euro per un corso di crescita personale dove con i tuoi video gratis su youtube ho imparato più cose e dopo ve lo giuro ragazzi ve lo giuro per dirvi la merda che c'è in giro e dopo i 4000 euro mi hanno chiesto 18000 euro io 18000 euro io pago 18000 euro io il giorno dopo porca troia voglio l'aureola qua qua la voglio qua dorata io non devo fare niente 18000 euro tu mi devi dare l'aureola dorata qua io devo diventare un santo in tre secondi con 18000 euro io devo diventare un santo in tre secondi e devo camminare sull'acqua il giorno dopo 18000 euro ma che cazzo mi devi dire con 18000 euro scusa vabbè lasciamo perdere ecco questo per dirvi lo squilibrio mentale che c'è in giro e attenzione perché tu con 18000 euro stai pagando dei corsi e tu rimani povero come la merda sentite il mio il mio linguaggio scurrile lo sentite il mio linguaggio scurrile no voi non dovete vedere il linguaggio voi dovete vedere i patti occhio a quelli che parlano g g b g b g g g g occhio perché sono i più avete mai sentito una parolaccia da parte del papa sì avete sentito dire parolacce da parte dei preti certo posso dirti una cosa il papa che ha detto c'è tanta fracciaggine in giro era pure famosa che girava su internet questo è il massimo delle parolacce che dicono è sempre una parola fuori luogo certo ma mai un linguaggio scurrile che uso io quindi loro usano usano belle parole di amore fratellanza peccato che loro hanno schiavizzato l'umanità peccato che loro hanno la banca più ricca del mondo e quindi è peccato che sono tutti pedofili da dentro non tutti ma molti quindi voi tutti noi dobbiamo vedere i fatti lasciamo perdere le parole puoi dire tutte le parole più belle che vuoi ma fammi vedere i fatti cosa mi vendi che progetto mi stai dando voglio vedere la carta quello conta secondo me esatto perché i fatti parlano non è che i fatti io voglio vedere infatti quando io vedo tutti questi guru che parlano di amore io dico sempre ragazzi dovete vedere i fatti perché se alla fine dell'anno quello diventa ricco e voi no e voi ancora no occhio vi sta vendendo parole tutti i guru dovrebbero avere una piattaforma di network marketing per le persone tutti dovrebbero mettere a disposizione perché se io ciccio guadagno vendendo crescita personale deve poterlo fare anche davide anche joanna anche valentina anche simone anche veronica invece questi sacchiappano tutto loro e tu vai in pace guadagna con le tue passioni e se non combini un cazzo nella vita viene al mio prossimo corso e tu vai avanti così per dieci anni e ogni anno dici no no ma questo secondo me questa è la svolta sento che questo evento questa volta sarà la svolta me lo sento detto questo ragazzi quindi a me piace scherzare io sono qui per noi siamo qui per fare cose concrete l'avete capito no siamo qui per giocare su internet e fare i guru da social network allora io adesso qua vi do solamente una traccia molto semplice per farvi capire cosa fare cosa non devo fare come funziona cosa non funziona ma devo chiamare i miei cugini i miei amici i miei fratelli calma calmatevi io quello che vi consiglio è perché ho già allora oggi ho avuto qui una persona che non ha iniziato ancora era qua alla presentazione io ragazzi queste cose ve le dico perché io poi questa persona carinissima che entrerà comprerà il kit ok era qui la presentazione lunedì scorso oggi è venuta a Torino a trovarmi perché giustamente io voglio conoscere anche le persone dal vivo lei però ha fatto un errore madornale però va bene è un'esperienza però io ve lo dico se volete farvi male fatevi male se volete evitare evitate lei cosa ha fatto non ha comprato ancora il kit quindi lei non si è immersa nella realtà nostra non ha ancora fatto la meditazione non ha fatto le accademie cosa ha fatto ha già chiamato una sua amica e gli ha detto gli ha parlato del network marketing cosa ha detto l'amica chi indovina vediamo chi indovina che è una truffa cosa Simone che è una truffa stai attenta stai attenta e sapete questa persona che comprerà il kit cosa ha pensato ragazzi vi dico queste cose perché questo vale per tutti quelli che mollano questo tipo di attività sapete cosa ha pensato lei me l'ha detto subito appena è accaduta la telefonata il network marketing non fa per me e io l'ho detto quindi fammi capire tu hai parlato a una schiava e siccome la schiava ti ha detto occhio tu stai dando ragione alla schiava stai dando retta alla schiava stai dando il potere alla schiava quindi quindi siccome quella è una schiava che ti ha detto no allora tu molli i tuoi sogni dici non fa per me no no amica mia ti sei rivolta a una schiava e nel mondo ragazzi ci sono gli schiavi e quelli che invece si vogliono liberare chi siete? ci sono tre tipi di persone quelli liberi quelli che si vogliono liberare e gli schiavi quindi noi dobbiamo andare ad attrarre chi si vuole liberare ma dovete già mettere nel conto che gli schiavi faranno di tutto per distogliervi da questa cosa perché devono difendere il matrix perché se voi avete ragione quelli devono lasciare i mariti le mogli i fidanzati i fratelli gli amici la bocciofila i pensieri le emozioni negative le sparlate eccetera i discorsi politici devono lasciare tutto lascia tutto e seguimi diceva Gesù quindi devono convincere voi che quello che fate è sbagliato così loro giustificano il loro recinto di schiavitù quindi occhio ragazzi occhio poi fate come volete ma io vi dico una cosa se avete un sogno non fatevelo rubare perché è pieno di ladri di sogni la cuore pieno distruggitori di sogni perché è gente che vive nella paura allora volete aiutare il mondo dimostrategli che si può fare dimostrategli a me ogni volta che mi dicono è una truffa è una cazzata è una piramide è uno schema ponzi è la catena di Sant'Antonio il tuo cugino è magolata in coroneta mi danno mi danno una carica pazzesca perché dico minchia io non voglio essere un rincoglionito come te grazie mi hai dato ancora più carica eh ragazzi ci vuole coraggio però vi dico una cosa e poi finiamo potrebbe essere che non vincete voi questa battaglia potrebbe essere ma almeno morite da combattenti e potrete dire io almeno ci ho provato tu invece sei un cuglione io almeno ci ho provato e non ho il il rimorso perché tutta la gente poi ragazzi in fin di vita sapete questa cosa? non sapete? ma mai è stata detta tutti i vecchi in fin di vita hanno tutti rimorsi se avessi fatto quello ed è per quello che si muore di vecchiaia perché hai condotto una vita da schiavo quindi la malattia e la morte diventa la tua unica salvezza la tua tristezza di vita quando sei felice non muori più e noi avevamo un esempio nel network di una nonnetta che voleva iniziare il network per pagarsi il funerale ha iniziato a guadagnare non è più morta quando ha capito la bellezza della vita aspetta un attimo qua c'è qualcosa che mi ero persa capito capito allora questa è una semplice traccia che io vi do che vi consiglio punto numero uno compri il kit punto numero due inizi il tuo viaggio interiore che è la prima parte e poi io qua l'ho semplificato ovviamente inviti gli altri alla presentazione ok non è molto lontano da questo processo e per farvi capire che cosa che voi per mille euro al mese dovete svegliarvi tutti i giorni andare fare dire brigare tornare a casa farlo per otto ore al giorno per tutto il mese qui vi godete le meditazioni vi godete le accademie la sera il mattino quando volete voi condividete quando ve lo sentite non dovete forzare io non voglio persone pazze qua che parlano con 800 persone se volete fare fatelo potreste anche adesso cazzo di memes che gira mica ma è coinvolto io vi consiglio di usare l'istinto e la naturalezza volete fare un video fatelo volete chiamare gli amici chiamateli e ragazzi e sto meme mi ha rovinato adesso il finale perché sto meme di questo qua sto vecchio pelato che dice sta frase vabbè almeno ci fa ridere quindi il senso comunque la sostanza è questa ragazzi non dovete fare i fenomeni non dovete fare i fenomeni perché noi ogni lunedì ci ritroviamo qua avete un amico un'amica il cugino portatelo portatelo qua stasera c'è Giovanni che è un mio ospite che stasera ha già portato un suo ospite perfetto questo è già è già il processo del lavoro cioè questo è già il processo di come guadagnare vedete come è semplice come guadagni faccio delle meditazioni conosco me stesso faccio delle accademie e invito altri il lunedì sera alla presentazione tutto qua tutto qua sì perché io voglio essere libero fine funziona così ragazzi non è che c'è altro giusto vogliamo imparare facciamo esempi matematici Veronica è stata una mia ospite Veronica decide di comprare il kit Veronica condivide con Simone Simone viene alla presentazione lunedì prossimo gli piace decide di comprare il kit Simone invita Valentina poi Valentina la settimana dopo invita Ioana è così che si fa la rete quello che voi dovete fare ragazzi però porca è crederci perché se non ci credete questo processo non funziona quindi tutta la partita non è sul ah cosa devo fare no se ci credi l'energia si accende e l'universo ti aiuta se sei molle non ci credi non capita niente quindi ragazzi il network marketing funziona tantissimo con l'energia interiore non è legato alle competenze tutti i lavori legati alle competenze saranno sostituiti dai robot e dall'intelligenza artificiale punto il network non è basato sulle competenze ma sul coraggio l'amore il credo la fede per quello che il network non si può fare con i robot un robot non può parlarti di coscienza cristica ok ragazzi allora io avrei finito che ore sono ok allora se volete approfondire andate sul nostro sito se volete approfondire i nostri servizi se avete delle domande magari adesso se degli ospiti hanno delle domande io sono disposto ad ascoltarvele oppure potete farle in privato a chi vi ha invitato quindi noi abbiamo i whatsapp abbiamo tutto quindi se volete fare domande siamo super disponibili ci mancherebbe altro però comunque se gli ospiti hanno delle domande io sono qua per rispondere grazie a tutti ok non avete domande va bene allora noi ci vediamo lunedì prossimo per la prossima presentazione e niente per tutti coloro che a tutti gli altri gli auguro buona fortuna invece per gli ospiti che vogliono unirsi a noi congratulazioni per la scelta contattate in privato il vostro sponsor che se sono io che vediamo le informazioni su come iniziare registrazione pagamento eccetera eccetera va bene niente per tutti gli altri ci ci vediamo lunedì prossimo ok ragazzi grazie e un abbraccio a tutti grazie grazie buona notte buona serata a tutti grazie a tutti